il migliore in campo nella partita italia francia allora cosa si prova a lasciare un palazzetto tutto per te questa sera e mi ha fatto molto piacere mi ha detto la squadra primo che dopo non potevo perdere qua contro l'italia e tutta la squadra ha giocato per me stasera e grazie a loro e grazie a tutti tutti i tifosi per per tutti questi due anni che ho fatto a cuneo ecco non hai fatto si è riuscito a mandare la gara al time break con una serie impressionante di punti consecutivi non ti senti un po in colpa no però ti ha giocato bene sono molto contento di tornare qua ecco è un addio a cuneo sono un arrivederci certo un arrivederci perché questi due anni e mio mio due anni di lavoro con più emozioni e certo che io voglio tornare qua non so quando però certo che voglio tornare qua tutti i tifosi ti aspettano in bocca al lupo grazie mille grazie